Anch'io leggerò qualcosa nella mia lingua, una breve genesi di questa cosa. Richiamava prima di Olin che ogni tanto noi ci troviamo una volta al mese per un salotto musicale letterario. Due anni fa, questo capitava, verso la fine di ottobre, e quindi ho pensato bene di commemorare un intellettuale, forse uno dei più grandi intellettuali del Novecento, personaggio sicuramente controverso, ma oserei dire anche quasi profetico. Questa è una lettera che scrivo a Pasolini. Poi l'ho girata al giornale, il giorno stesso della morte, e dopo poco mi chiama il responsabile della cultura e mi dice che hai fatto benissimo perché nessuno degli scrittori in fioli si è ricordato la morte di Pasolini. Una cosa non mi ha fatto piacere se mi hanno pubblicato questa lettera, perché forse era il caso di ricordarla. Anche perché è nato a Bologna, ma ha amato molto la nostra terra, ha voluto farsi seppellire a Casarsa, tra l'altro la tomba dove c'è anche la madre disegnata da un grande maestro dell'architettura come Gino Valles. Se mi capita di passare da quelle parti, date un occhio perché è abbastanza suggestivo. Che cosa dico? Gli scrivo come fosse vivo, quasi qualcosa di irreale, e gli dico che oggi non sarebbe pubblicato. Questo perché? Perché la genesi di questa lettera è un po' un richiamo agli scritti corsari, che è un libro che vi consiglio per chi ha voglia di capire un po' il suo pensiero. Perché sono la raccolta di articoli pubblicati su Paese Sera, Corriere della Sera e altri quotidiani nazionali dove c'è anche un forte dibattito, anche un forte confronto con Calvino ed altri. Oggi se prendete in mano il Corriere della Sera, vedete solo Gossi, nonostante che all'epoca ci fosse ancora quasi una censura, eppure la stampa, pardossalmente, era più libera perché dava parole a questi personaggi. Ti scrivo un po' e ti chiami par nonco, ti chiami Pieri Paoli, ma c'è che tu sei nassuto a Bologna e con un mulo stinato e con braure tu t'abbai sfurlato. Noi invece no, ogni po' si vergogni di doprare le marileghe. Ti t'abbai e ti scrivo al prisino, e non sei neanche se o sei il primo che lo fanno, ma chi spuica l'importa? Scrive un muerto. C'è che lei ha le mati, e dice la coccidù, perché tu sei muerto il 2 di novembre del 1975. Tu vedi su una preoccupazione, che con umiltà e pudor un dì tu hai trattato fuori. Io e Calvino ho riscindato se di sorpassare di una storia reale che non si ingiallisce di boccia, stramudano in statui di cera di noi stessi. Ma chi è il muerto? Tu non sei muerto, non stavi pure. Se io sei chi a scriviti, non dì che tu sei vivo. Le tue idee sono vive, le tue peraulis sono vive. Se i tuoi pensieri sono visti, attuai le vite e gli eccisti. E va a doprade ben, e tu tu le as doprade ben. Plena di curiosità, ho soi, io dù, c'è che le scrivi di te su Wikipedia. Poete, giornalista, registro, scenarista, scrittore, linguista. Porco boi! Se non sei arrivato a fare tutte le cose che tu hai vivuto. Non mi lasciando il grande Napoleone se arrivasse al svedrosare il monte in cui si poteva. E tu tu l'hai svedrosato, viaggiato, celato, analizzato, combattuto, senza baionetti o fusiati, ma non me quelle cine prese, le penne e le peraule. Tu di Bessol quinto riduci. Ma non tu eris di Bessol, tu vedi sviscini i tuoi convincimenti, perdonimi, i tuoi risonamenti, perché c'è che hai convincimenti alle dentre, pal'plui presunzione. Tali risonamenti, si chiate analisi e riflessioni, sono reddute a di saberscoltà, pal'poder risonare. Tali vocabolari, alle peraule quintriconformisti, va sclarile, basta riscrivere i Pasolini. Tu tu sei la rappresentazione più giusta. Tu che tu sei più irreligioso dai predis, ma loro non ti amo l'ultima se bene, più rute, ma non più ardute. Tu hai avuto il coraggio di esplicare in pubblico le tue contrarietà all'aborto, motivando le tue ragioni. Ora va a dire, tue ragioni. Così tu ti stiappare, gli sfranzi anche dai laici. Tu come Cristo, che l'ha voluto ben anche ai suoi agusini, tu hai amato senza compromesso un'etriare che ti ha slontanato, un'e politica che non ti voleva. Nonostante che al fos passati poche sessante voti, non zovins, di provincia, si vedevi in te, non me le pare puri catà, l'omosessualità, e non frusso un po' stupidus, cui ormòs che giravano a mil, a chiapati per il culo, come che tu fossi su miei cioti. E no che le femmini li vengono appena nasate di lontano, o che erano i maestri di vita. Voi, per fortuna, le robe nova resso rilievo. Il New Month, che ho sei sicuro che non ti piace, è un po' permissivo. Non sta interrompendo. Ho il legge che tu hai detto sulla libertà sessuale. del New Month, alle fede di quel vielli, che tutto ha svioduto morì e nasce in una nuova forma. Ma no che... Ma che non ti ha dato il team di analizzarlo tra l'aspetto più spregiudicato e adulto che l'ecca di voi. Tante tristere sta dedoprate quintre di te. Tu forse non tu lo amarezzerai mai, ma un po' ti verrà anche a fare male. E hanno pensato i pacati per fare tasecce stupis. E hanno forse pensato che tu fossi di besolo, ma se a distanza di 36 anni sono soicà io e te a tabaiare. All'un dì che non sono arrivati a sierarti le bocce, a copar il tuo pensiero. All'un dì che ho vinto a creare, non ho sentito più scaltare di loro. Piero Paolo, ti hai letto tanto in fa. E di te ogni volta che hai tappaiato in televisione ho ascoltato con interesse, ma secondo il mio puore pensiero non ti ho capito in insomma. Così, unedì mi sei fatto un regalo. Non ti distranno, ti saranno. Aspetta che ti dici. Ho chiesto scritto corsario. Per me all'estate non rilei un scritto, ma lei un libro in più. Tante forze e provocazioni i tuoi vuoi e il tuo pensiero proiettaste al domani che l'è il vuoi di voi. Ciò di diti, tu avevi svioduto giusto o sin rivasta al poes che tu, sin cinta storie, se no topografo, tu avevi sin di dita con il precedente sviluppo. Sì, Pieri Paolo, c'è che mi è impressionato di più tra i tuoi articoli che ti hanno pubblicato. E non sta ridendo ma raveati che ieri in altri stimpi se l'Italia ieri in cimò un po' bigote. Eppure ti hanno pubblicato un tornaio importante. A rigore di logica, il mondo alvarez di progredì? Sì, sì. O alci li mani per fermarti, lo sai. E sono cose differenti se il progresso e il sviluppo. Se ti hai letto, se c'è che tu volessi dire. Ma tu sai svuè con internet, tante televisioni, tornai, in teoria varesti di vedere e ti ha dato tante informazioni e invece lui è. Non mi è però di svuèdis. In questi momenti di crisi globale, economica e morale, dalla cazza sono l'assi intellettuali e economisti che fino a un quattore prima mi dava in lezione se si t'abbiavano in torno. Com'è, non ti ha pagato bene. E ora tutto, calviare le bocchie e non le disedimonate. Tal di so di voi, voi i tuoi articoli non ti pubblichereessi. Sono sicuro di se che ti dì, so crodarai e non staridi perché ti disarai com'è. Per i pali, voi tutti resti sono rivoluzionari e non ti pubblichereessi non ti ha pagato bene. Non ti mi crodi? Chia la torre, le giornate, vio le televisioni, tu potresti lì su internet con il computer che lei è un argain visiti, ma le nomi non impresti e anche a prove di stupiti se no c'è muto fa sarebbe se no do per l'ultimo. Siete? Ho vinto le crisi e tu ci scrivi che io vengo